Sì, sono capace anch'io con l'emulatora per la sombra a spostare, per far portare i due, la ricondenza, la macchina, la faccio andare, proprio devi vedere che cosa vuole appoggiare, l'ordine di una garanzia, il motore, il motore, il motore... Ci sono due, il poser, il motore... Uno può fare, guarda, cerchi e bombe... Vado, eh? Mhm. Sì. 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 Grazie. 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 Grazie.